buongiorno o buonasera non so quando starete guardando questo video ma vi voglio dire grazie per tutto l'affetto che mi dimostrate sul web quando parlo di scream la live è andata benissimo anzi se non l'aveste ancora vista recuperatela perché ci sono stati dei ghostface ospiti vi dico solo questo stavo pensando quale video potrei realizzare e alla fine ho detto vabbè è ancora presto per il giochino di chi si nasconda sotto la maschera di ghostface nel sesto capitolo è ancora presto per la classifica aggiornata datemi tempo di rivedere il film quando uscirà in blu ray e se realizzassi un video sulle ipotetiche idee nel caso veramente scream 7 ricevesse il via libera all'inizio sarebbe dovuto essere il classico video in cui io parlo con voi e magari poi ci saremmo confrontati nei commenti poi ho detto no voglio chiedere l'aiuto di altri amici di altri youtuber e quindi un video semplice è diventato un video molto più complesso e anzi io adesso ho bisogno che mi promettiate di divertirvi insieme a me e anzi nella sezione commenti dopo aver ascoltato ciò che vi dirò dopo aver ascoltato le teorie di tutti i miei amici che non vi rivelo beh allora diteci con chi foste più d'accordo io vi ascolto e poi sotto potremo discuterne condividere i nostri pareri però io sono proprio curioso di sapere quale delle tante teorie che sentirete oggi faccia più al vostro caso inizio io allora sicuramente scream 7 lo realizzeranno in tanti hanno abboccato come pesci al mio al mio scherzo per il primo d'aprile ragazzi era un pesce d'aprile ci sono persone che tuttora mi commentano ma paolo ma non è possibile non ci sarà alcun reboot stavo semplicemente divertendomi a prendervi in giro guardate i video fino alla fine perché poi lo rivelo ma sicuramente visto che l'incasso di scream 6 sta andando molto bene insomma al box office questo film l'incasso sta aumentando sempre più mi immagino che da qui nel giro di poco tempo un settimo capitolo possa avere il semaforo verde quindi lo realizzeranno cosa posso immaginarmi da un nuovo capitolo di scream premetto di non aver visto ancora nessuno dei video che tra poco vi mostrerò non volevo farmi influenzare quindi potrebbe anche darsi che ripeta qualcosa che poi verrà detto più tardi però gira gira le idee sono quelle io non so niente di cosa han detto i miei amici i miei colleghi quindi io vi dico che da un settimo capitolo specialmente se lo realizzassero nel giro di breve tempo non so quanto vorrei un qualcosa di similare al terzo degli anni 2000 voglio dire scream 5 di matt bettinelli olfin e tyler gillett è andato a richiamare il capolavoro di west graven del 96 aggiungendo poi altre cose però era un grande omaggio al primo scream scream 6 è un grande omaggio al secondo film ed è un altro secondo me lungometraggio splendido se scream 7 omaggiasse il terzo non dico che non mi farebbe piacere ma ho timore che alle lunghe il troppo stroppi e che quindi si esageri poi magari come nei primi due capitoli di questa nuova trilogia vanno a riprendere dal terzo ma aggiungono così tanto di altro di interessante che dico vabbè non c'è problema però tutto sommato non saprei una cosa che potrebbe ricollegarsi al terzo vi dico io quale sicuramente il fatto che si debba cercare sidney prescott casca pennello proprio perché nel sesto sidney non c'è stata e quindi io mi immagino un killer che nella scena di apertura possa andare da una persona che tra poco vi rivelo anche chi penso possa essere chiedendo dov'è sidney prescott perché nel sesto non l'abbiamo vista ci sono stati problemi di cachet ma tutto sommato questa cosa potrebbe essere un espediente interessante da sviluppare nella storia dov'è sidney prescott magari la persona in questione come cotton uiri si rifiuta di dirlo e quindi c'è un ghost face che tenta di cercarla uccide questa persona all'inizio del 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 nuovo film e poi in un modo o in un altro si torna da sid chi potrebbe essere la prima vittima kirby ragazzi io mi ci gioco tutto ma kirby morirà malamente nella prima scena di scream 7 è un po il cotton uiri della situazione quella che subentra al cinema come cotton uiri subentrava nel teatro alla fine del 2 e salva in extremis la situazione ecco secondo me lei nonostante sia diventata un detective dell'fbi troverà la morte nel giro di poco dall'in poi ci si potrebbe riavvicinare a sidney magari mi piacerebbe poter rivedere anche mark kinkade patrick dempsey perché si rammenta sempre ma non lo vediamo mai poi a livello di metacinematografia non saprei proprio dove poter andare a parare voglio dire già nel quinto hanno analizzato tantissime cose importanti del filone cinematografico hollywoodiano degli ultimi dieci anni nel sesto l'aspetto metanarrativo era già un attimo messo da parte questa cosa ha infastidito alcuni a me non ha dato alcuna noia anzi il sesto l'ho trovato un film intelligentissimo già a partire dal presupposto chi se ne frega dei film nel settimo specialmente se venisse realizzato nell'arco di breve tempo dove si può andare a parare si è parlato dei requel dei legacy quel si è parlato delle saghe effettivamente devo dirvi la verità visto che io ho avuto una bruttissima esperienza con questi utenti che si divertivano a spoilerare il film in anticipo quindi io sono andato in sala già sapendo che gli assassini fossero tre che uno di essi fosse il detective bailey immaginatevi un ghost face che magari nel film uccida tutti questi spoileratori seriali è una cosa molto metacinematografica perché ormai lo spoiler è diventato un qualcosa molto sentito dalle persone cioè in sala specialmente se si è fan si vuole andare senza sapere niente immaginatevi dei fan della saga di step a cui è stata rivelata la storia dello step in uscita a cui sono stati rivelati dei particolari compromettenti per la visione che quindi questi ultimi si vadano a vendicare con le persone che hanno spoilerato l'unica cosa che mi lascia un po titubante è questo movente potrebbe reggere per un film intero allora magari per una determinata per una determinata parte del film potrebbe essere anche divertente andare a parare sullo spoiler che non è mai stato trattato nella saga di scream però al contempo secondo me dovrebbe essere lo specchietto per le allodole per far credere al pubblico che il movente sia quello per poi sovvertire nuovamente le aspettative e metterci dentro altro magari storie che non abbiano a che vedere per forza con il cinema come nel secondo c'era la vendetta nel terzo potrebbe esserci qualche altra cosa quindi il cinema c'è ma non è il principale movente per portare avanti i delitti perché se ci fate caso nel secondo non era il principale movente nel terzo non era il principale movente c'è sempre l'aspetto metacinematografico però poi perché si uccide magari ci sono delle motivazioni in più quindi io vorrei che si analizzasse il terrore la fobia dello spoiler da entrambi i lati quindi sia da quello dei fan che proprio non vogliono vedere nemmeno i trailer sia invece dalla parte del fan che viene quasi bullizzato da questi provocatori online che tentano di rovinare e compromettere le visioni quindi sarebbe molto interessante ma poi vorrei qualcosa in più riproporre un tornare alle origini con un regista alla roman bridger sarebbe fin troppo ripetitivo quindi ok rifarsi al terzo ma con cognizione di causa non saprei cos'altro aggiungere se non che dovrebbero avere una bella idea per per far ritornare sydney nel mio video provocazione pesce d'aprile dicevo che magari sydney si poteva sposare non si sa se si sia sposata oppure no però pensate un matrimonio come causa scatenante dei nuovi omicidi di ghostface solo che magari sydney perché dovrebbe invitare tara e sam per quanto ci sia un legame con billy lumis ma perché dovrebbe invitarle io sono convinto che neve campbell tornerà però sulle idee ovviamente non saprei cos'altro aggiungere perché quel che ho detto già mi potrebbe far pensare ad un film interessante magari potremmo vedere la madre di sam e di tara perché è sempre stata off screen ci viene detto che non si parlino più però vederla non sarebbe affatto male quindi prima di passare la parola ai miei colleghi una cosa che assolutamente voglio che portino avanti è il tema dell'ereditarietà del male una sam combattuta fra l'aspetto anche più irruento che molto spesso prende il sopravvento in lei è figlia di billy lumis quindi questa cosa deve essere ancora una volta contemplata analizzata sviscerata sviluppata perché è l'aspetto che più mi colpisce e ovviamente deve tornare tutto il cast perché non esiste scream 7 senza melissa barrera e genna ortega e tutto il resto della compagnia vabbè verrà portata avanti la storia d'amore fra chad e tara nel prossimo potrebbe morire qualcuno sì l'ho detto kirby chad ancora no prenderà altre coltellate morirà magari in quello successivo è il nuovo linus comunque stiamo a vedere avrà sicuramente un ruolo più importante anche danny anzi per me danny potrebbe morire nel prossimo e che dire ricordatevi le regole ma soprattutto qua sotto diteci qual è l'idea che più vi ha colpito con quale degli youtuber degli amici che ascolterete vi trovate più in sintonia un caro saluto e buona visione ciao a tutti e ciao a tutte io sono simon leblonde di sim theory time e ringrazio poi l'innocente che mi ha accolto qui nel suo canale dunque oggi la puntata sarà dedicata a quelle che sono di fatto le fanta teorie su scream 7 e io avevo una mezza idea cioè quella di andare su reddit su screen rent e cercare quelle che fossero le teorie un pochino più intriganti e fare un elenco diciamo di quali fossero le più probabili questa era l'idea iniziale ma ovviamente questa cosa non ha minimamente funzionato perché ho scoperto che su reddit su screen rent c'è una caterva di diciamo di idee che non sono esattamente plausibili quindi prima di avventurarmi in quelle che di fatto sono le mie teorie perché a questo punto tanto vale che io vi dica le mie mi leggerò solo per curiosità vostra e di chiunque diciamo non nuta troppa fiducia nell'umanità vi leggerò quella che di fatto è una delle opinioni più belle che io abbia mai letto su scream 7 ovvero non lo metterò in grafica per motivi di privacy un utente scrive tu deve essere sicuramente un cyborg non sono esattamente nel campo della saga non sono un fan pazzo ma immagino sto traducendo dall'inglese ma immagino che a un certo punto un god's face andrà a dissotterrare Stu lo coltellerà con qualcosa di metallico un fulmine colpirà il pugnale che trasferirà elettricità nel corpo di Stu portandolo indietro come un super zombie cyborg ecco come potete immaginare la qualità di queste di queste opinioni era abbastanza fuori scala quindi di fatto ho lasciato perdere l'idea iniziale e mi sono avventurato in quello che è la mia in quella che è la mia teoria su scream 7 e partiamo subito da Stu dunque Stu è stato identificato da moltissimi fan e non solo come un potenziale ritorno ora per quanto mi riguarda Stu tornerà nel senso che sia nel 5 che nel 6 appunto hanno giocato molto bene su questa figura l'hanno presentato alle nuove generazioni in qualche modo ma non è una presentazione abbastanza forte per far sì che sia il killer non penso che Stu sarà a ghost face perché le nuove generazioni quelle che sono arrivate a screen 5 screen 6 ma non hanno visto non hanno visto i precedenti sicuramente di anzi a Stu non avrebbero questo sussulto ma se Stu non può essere ghost face allo stesso tempo può essere una vittima di ghost face e perché non proprio la prima vittima l'intro di scream 7 io mi immagino questa scena che potrebbe aprirsi appunto all'interno di un'abitazione dove noi vediamo Stu invecchiato che magari ha cambiato nome riceve una telefonata da parte di ghost face il nuovo ghost face che rivela la sua identità a lui ovviamente ma anche agli spettatori e poi lo uccide questo darebbe anche un gancio diciamo a scream 3 cosa che in qualche modo il 5 e il 6 stanno facendo con l'uno e con il 2 e qui ci sarebbe un gancio perché in scream 3 la scena d'apertura era quella dove spoiler moriva cotton cotton era quello che era stato identificato come l'assassino di maureen sbagliando ovviamente erroneamente e Stu era uno di quelli che di fatto era il vero assassino di maureen quindi il finto assassino in scream 3 il vero assassino in scream 7 secondo me sarebbe un intro leggendaria per le nuove generazioni sarebbe comunque un intro efferrata avremo un ghost face che si presenta e uccide l'unico ghost face in circolazione e quindi avrebbe un suo cioè una sua energia una sua potenza arriviamo quindi a quella che di fatto sarà la trama secondo me in scream 7 ora se rispettiamo appunto il legame che c'è fra i nuovi capitoli e i vecchi capitoli secondo me questo sottile legame potrebbe essere rappresentato dal fatto che mindy ex studentessa di cinema che noi vediamo appunto nel stesso studiare cinema magari potrebbe essere alla regia di quello che di fatto potrebbe essere un reboot della saga di steb ci sono stati nuovi assassini ci sono nuove storie e mindy potrebbe essere stata chiamata in quanto esperta del campo e anche il regista e quindi noi potremmo vedere mindy alle prese con questa produzione dove magari per fare un po di metacinematografia contemporanea sono stati ordinati dei reshoot reshoot in seguito a uno screen test a uno scream test a uno scream test a uno scream test o uno scream test in cui si è evidenziato che il finale non funziona quindi noi vediamo mindy che sarà ovviamente attornata da tara e da chad che appunto è al lavoro su questa cosa ghostface entra in scena e inizia a uccidere quelli che di fatto interpretano gli assassini in questo reboot a quel punto io mi immagino che inizia appunto un vero e proprio conflitto tra la volontà produttiva dell'industria di andare avanti a macinare capitoli e la volontà di ghostface di chiudere i giochi una volta per tutte quindi io mi immagino ghostface per esempio postare su un sito di fanatici o su telegram o da qualche parte appunto tutte le foto delle sue vittime comprese compresa quella di stu e dire e iniziare una specie di sondaggio stile black mirror appunto che è una delle nuove cioè uno diciamo dei prodotti di punta della contemporaneità che scream non ha ancora citato iniziare un sondaggio su chi sarà il prossimo e questo sarebbe molto divertente perché potrebbe portare il pubblico diciamo all'interno della storia a votare chi vogliono veder morire e io mi immagino che questo ghostface faccia una lista proprio con tutti i personaggi della saga quindi per esempio martha la sorella di randy io me l'immagino in questa lista sydney gail kirby chiunque in questa lista in modo tale anche da farli rientrare cioè di farli vedere nel film dopodiché ovviamente si preannuncia un massacro per chi pensa che non vedremo morti secondo me ne vedremo e come perché si riaggancia un po alla tradizione anche stranger things ha fatto questa cosa di portare nuovi personaggi ucciderli ma adesso gli autori stanno dicendo che nell'ultima stagione moriranno anche i principali anche in scream 7 che deve avere un'aura di conclusione secondo me giocherà su questa cosa moriranno personaggi fondamentali mindi io per esempio me la vedo già morta già stempiata così come kirby me la vedo già stempiata quelle che non vedo morte sono sydney e gail e non vedo neanche tara come potenziale vittima anche perché secondo me sarebbe una grande soluzione in concomitanza diciamo con l'uscita del 5 del sesto di chiudere questo settimo lavorando su quello che di fatto è il protagonista e potrebbe diventare l'antagonista della saga ovvero sam sam che è la figlia di billy e che potrebbe accogliere e raccogliere diciamo il mantello e la maschera diciamo di scream in modo tale che nel momento in cui si scopre essere lei che qualcosa che tutti sanno ma che tutti negano perché non è mai successo che un personaggio del cast principale diventasse il killer o la killer il fatto di chiudere questa saga con sam secondo me sarebbe molto 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 interessante anche perché billy è aperto e lei chiude l'ultima mia fantateoria è che in scream 7 il killer ghostface non morirà tara risparmierà la vita di sam secondo me ci sarà questa scena finale anche perché nel 5 nel 6 hanno calcato molto sulla giustizia nei confronti dei killer secondo me in modo tale da arrivare alla fine e risparmiare sam che verrà in qualche modo rinchiusa all'interno di una struttura dove verrà curata e in questo modo si può avere una chiusura perché la vera rivoluzione sarà di non uccidere il ghostface la ghostface finale queste erano tutte le mie teorie spero di non avervi annoiati e o annoiate ne ho dette veramente tante e spero di aver dato qualche spunto ringrazio ancora paolo con cui ci sarà ancora modo di collaborare ma non voglio fare spoiler e quindi io vi saluto vi mando un abbraccio a tutti e a tutte ciao ciao salve a tutti qui è kratos cercando di immaginarci che sto maker sia sopravvissuto primo come sarebbe possibile e due come reinserirlo efficacemente all'interno della trama mantenendo quindi la sua versione delle aspettative e quindi anche cercando di ribaltare le carte in gioco mi sono fatto una piccola idea o meglio molteplici idee che formano un trip mentale gigantesco quindi cominciamo come è possibile che sto maker sia sopravvissuto se eventualmente sopravvissuto l'abbiamo visto pugnalato ripetutamente abbiamo visto che sidney gli schiacciava la testa con il televisore che abbiamo visto anche nell'ultimo film però è possibile che dopo tutte queste ferite con una grande forza di volontà e diciamocelo anche una certa forzatura di trama sto maker sia sopravvissuto col volto sfregiato e indebolito dalle ferite e mi immaginerei che quindi sto abbia inscenato la sua morte sostituendo il cadavere non so in che modo ma comunque abbia inscenato la sua morte qualcuno è stato sepolto ma non lui e immagino che sto si sia dato alla macchia allontrandosi da woodsboro approfittando anche delle ferite sulla sua faccia perché i vetri l'avranno sfigurato a tal punto che le ferite l'hanno reso quasi irriconoscibile quello che vedete qui infatti sullo schermo è una rappresentazione più o meno fedele della mia idea di stumacher al giorno d'oggi un metto lillard con del make up prostetico che ha deturbato le ferite hanno deturpato il suo volto al punto da renderlo quasi irriconoscibile un taglio di capelli in più un cambio di personalità e diciamo che stumacher si è volatilizzato nella folla si è volatilizzato negli stati uniti si è allontanato da busboro magari in questi anni si è rifatto una vita cercando di rigare dritto ma naturalmente le sue perversioni anche la sua foglia omicida sono sempre lì in agguato pronta tornare in che modo quindi farlo tornare in scena qual sarebbe il motore della trama se vogliamo mantenere la sua versione delle aspettative per come la vedo io stumacher tornerebbe ma non in veste di antagonista non come ghostface ma come vero e proprio protagonista infatti nella mia visione di un ipotetico scream 7 o anche uno dei prossimi sequel nei quali stu potrebbe tornare questo nuovo ghostface ha appreso che stumacher è vivo e vegeto e quindi crea una trappola per i protagonisti sopravvissuti agli ultimi film ovvero samantha tara kirby mindy chad sidney e anche gail attirandole in trappola proprio nella città o nel luogo in cui si è rifugiato stu stu magari si è rifatto una vita con una famiglia dei figli chi può dirlo oppure si è isolato dal resto del mondo vivendo come un eremita ma comunque sia il nuovo ghostface vuole che i vecchi protagonisti scoprano che stu è vivo per coinvolgere anche lui nel suo gioco perverso ora che magari anche stu sia parte di questa nuova setta di ghostface o di questo nuovo gruppo non saprei come vederla però una cosa è certa le interazioni del gruppo con stu si scriverebbero da sole vediamo che magari kirby oppure gail e soprattutto sidney appena scoprono che lui è vivo vorrebbero saltargli addosso vorrebbero sparargli piantargli un colpo in testa però naturalmente lui dimostra che in un certo senso è cambiato si è si è calmato la sua foglia omicida e ai minimi storici ed è tornato a essere un po quel pazzerello che era all'inizio del primo film comunque tra virgolette un amico amichevole gli accoglie in casa i protagonisti però naturalmente siccome è entrato nella mira del nuovo ghostface allora sarà costretto a scendere in campo stavolta per aiutare i protagonisti a finire quello che lui ha iniziato perché lui è stato il primo ghostface e deve affrontare una nuova generazione e diciamo che per ognuno dei protagonisti posso intravedere uno schema perché appunto se loro lo accolgono nel gruppo se lo accogliessero naturalmente sidney gail e kirby diffiderebbero proprio come tara e chad cercherebbero di stare alla raga da questo psicopatico che certo sembra essere pacifico ma come ho detto prima le vecchie abitudini sono dure a morire e perciò la foglia omicida di di stu potrebbe essere ancora lì in agguato per quanto volta a favore dei protagonisti ma le interazioni che più sarebbero appropriate sono quelle tra lui e mindy perché mindy è la nipote di rendy e se già ci ricordiamo la chimica che c'era tra stu e rendy allora immaginiamoci la chimica che ci potrebbe essere tra lui e sua nipote la nipote di rendy perché sono entrambi dei giocherelloni e ci sarebbe possibilità che leghino in un certo senso facendo squadra ma le interazioni migliori sarebbero quelle appunto tra stu e samantha abbiamo visto nei due film precedenti che samantha quando le prende il momento di foglia omicida vede nei riflessi degli specchi e dei vetri il fantasma o meglio l'allucinazione di suo padre billy loomis interpretato sempre da skit ulrich ma ringiovanito in digitale per sembrare come lo era nel film degli anni 90 perché infatti lui è confermato essere morto ma il suo spirito tra virgolette vive all'interno di samantha che ha la sua stessa foglia omicida ma nascosta dentro di sé le interazioni migliori sarebbero quelle tra lei e stu perché volete che in un'inquadratura magari non vogliono mettere in un riflesso di nuovo stu e billy insieme ma in più soluto se samantha ha questa magna omicida dentro che abbiamo visto anche espletare alla fine degli ultimi due film allora è possibile che mettere samantha e stu in coppia insieme sia come rimettere insieme billy e stu anche se in una nuova forma ora protagonisti della storia contro i nuovi ghost face due ghost face contro altri ghost face le interazioni si scrivono da sole praticamente soprattutto con stu che adesso si è rabbonito adesso ha cercato di reprimere la sua magna omicida e sarebbe bello che vi insegnasse a samantha come controllare le sue pulsioni perché se c'è riuscito lui in questi 20 anni senza più fare male a nessuno pur volendo magari allora può insegnare anche a lei come fare e queste sono cose che ci ho pensato sul momento cioè non sono cose pianificate le interazioni tra i personaggi sono così naturali che si scriverebbero da sole mettere stu assieme a samantha o anche insieme a mindy e sidney mi immagino che ipoteticamente in uno scontro con il nuovo ghost face stu si becchi qualche pugnalata per salvare la vita a sidney non tanto perché ci tenga a lei ma magari lui si vanterebbe di averla salvata per dimostrare di essere dei buoni adesso perché si eccita comunque a prendersi le coltellate la violenza sarebbe una cosa da stu godere del dolore per quanto sia una cosa che ha cercato di evitare per tanti anni ma adesso riscoprire il brivido della caccia loro diffidono giustamente di lui non so se è giusto dire di fidare perché adesso lui è della parte dei buoni se resterà dalla parte dei buoni fino alla fine non lo sappiamo ma ipoteticamente vi salverebbe la vita a sidney gail o anche a samantha per dimostrare adesso di essere cambiato ma non perché tiene a loro proprio per vantarsi di essere uno dei buoni adesso è una cosa che sto sicuramente farebbe e quindi questa era la mia concezione di quello che potrebbe essere il ritorno di stu per non parlare del fatto che mi immagino che sto a un certo punto magari entrando in uno store o in un pit stop prenda un costume da ghost face e lo indossi nel finale con tanto di modificatore vocale alla carlo valley così tornerebbe il primo ghost face per affrontare appunto la nuova generazione è perfetto quindi ragazzi queste erano le mie piccole idee sul ritorno di stumacher per sovvertire le aspettative e continuare il franchise ma da un nuovo punto di vista creando una nuova prospettiva del personaggio che se proprio deve tornare almeno che torni in una veste completamente nuova e innovativa e adesso la parola un ringraziamento al buon paolo innocenti per avermi chiesto di partecipare a questo video e quindi cosa farei io per continuare la saga di scream ci sono degli spunti per andare avanti a mio avviso sì perché abbiamo visto tra l'altro che ormai scream non si basa più solo sui horror ma già il quinto aveva ampliato la portata metacinematografica al cinema un po in generale non a caso il principale punto di paragone era ryan johnson il regista di nice out con uno stabotto che ovviamente si rifaceva a episodi 8 di star wars quindi dovendo diventare una saga che dopo la parentesi strana del sesto in cui appunto sembrava allontanarsi un po' tanto dalla componente metacinematografica si cosa può fare per rientrare diciamo in in pista beh come è stato anche suggerito nel gruppo privato whatsapp di facce di nerd c'è effettivamente una tendenza cinematografica che può ancora essere presa in giro in scream gli universi narrativi ormai tutto deve diventare un universo condiviso e o espanso prima avevamo solo star wars e la marvel però poi tanti altri hanno cercato di inseguire questa moda la dc ci sta anche per riprovare i kaiju con il monster verse il due volte fallito dark universe per quanto riguarda gli universi condivisi mentre per gli universi espansi dopo star wars abbiamo ad esempio il creed verse poiché michael b jordan vuole vuole espandere il proprio il brand appunto di creed di cui lui è protagonista quindi perché non prendere in giro questa cosa anche appunto in scream con magari vari ghostface disseminati in parti del mondo con magari o il gruppo di protagonisti che si è formato nel sesto film che si è temporaneamente diviso quindi ognuno ha il proprio spin off e poi alla fine si ritroveranno tutti uniti ognuno appunto portandosi dietro un proprio ghostface con appunto tutti questi che uniscono le loro forze quindi per la prima volta non abbiamo ghostface diciamo che agiscono coordinati ma separatamente per poi appunto unire le forze solo alla fine questa potrebbe essere una soluzione o anche un'altra che si può applicare magari uno in uno scream 7 e uno in un eventuale scream 8 perché qui si può andare avanti quanto si vuole perché non le lotte tra fandom e in particolare il come si vuole proseguire una saga torniamo a star wars c'è chi vorrebbe che andassi avanti e chi invece dice basta staccate la spina meme dei simpson stop stop it's already dead quindi perché non creare magari due fazioni di ghostface una che vuole continuare uccidere per poter dare nuovi spunti agli stab per continuare e chi invece vuole uccidere per diciamo uccidere il franchise stesso sterminare tutti i protagonisti tutti coloro che sono collegati effettivamente al alle vicende che poi ispirano steb all'interno della saga della saga stessa per punto porre fine ad una saga che secondo loro è ormai rovinata per sempre e questa cosa potrebbe portare addirittura allo scontro tra le due fazioni di ghostface non dimentichiamoci che il prologo del sesto film ha introdotto l'idea che ci possono essere dei ghostface che operano in maniera indipendente e addirittura si finiscano per ammazzare a vicenda per non intralciarsi i piani a vicenda abbiamo già visto ghostface che ne ammazzavano altri gil che uccide il suo compare in scream 4 ma li erano alleati poi semplicemente uno dei due tradisce l'altro qui invece appunto sarebbe una cosa di menti fazioni separate che poi appunto si si scontrano arrivando a farsi fuori a vicenda perché no anzi questo scontro potrebbe anche derivare dal settimo nel settimo si prova a fare l'universo espanso steb si ispira a questo e prova a fare lo stab verse e i fan più accaniti della prima ora che non vogliono che il brand prosegua rischiando di rovinarsi si attivano per impedire appunto la cosa cercando di distruggere il tutto quindi appunto scream in realtà a questo e chissà altre possibilità da poter esplorare quindi sicuramente non è un brand che che può finire tanto presto potremmo anche prendere in giro comunque le saghe programmate perché questa è una cosa che non è mai successa realmente nel 2 si prendeva in giro il seguito e anche nel sesto si parlava di saghe che semplicemente devono aumentare la posta in paglio ma non si è mai parlato dell'idea di programmare qualcosa a lungo termine anche questo si potrebbe fare con appunto magari il settimo e l'ottavo capitolo che ho detto io in cui si capisce che quello che è iniziato nel 7 poi potrebbe proseguire nell'ottavo con un cliffhanger finale che non si è mai visto in scream finora i capitoli erano sempre stati autoconclusivi e al massimo ti faceva presagire che un altro ghostface sarebbe potuto tornare addirittura potremmo avere nel settimo uno un ghostface che non muoia per poter poi tornare appunto nell'ottavo appunto come dicevo prima saghe programmate film in due parti potremmo avere uno scribe uno scream rise of stab parte 1 e parte 2 rise titolo che viene usato spessissimo ultimamente nelle produzioni cinematografiche the dark night rises transformers rise of the beast rise of the planet of the apes rise of the guardians che sarebbe da noi le cinque leggende quanti ne abbiamo visti perché non metterlo e appunto parte 1 e parte 2 c'è stato brevemente questo movimento che tra l'altro si anche si sta anche per riaffacciare con gli ultimi due mission impossible dark reckoning se non ricordo male parte 1 e parte 2 per l'appunto quindi scream uscendo dalla comfort zone degli horror poi comfort zone tra virgolette e appunto tirando in ballo cose di questo tipo potrebbe effettivamente proseguire per un buon numero effettivamente di di capitoli e magari perché no come scream 3 aveva rappresentato la chiusura della trilogia potremmo arrivare appunto ad uno scream 8 o scream 9 qui si continuerebbe con le citazioni star wars con appunto episodio 9 con una sorta di chiusura del cerchio cose di questo tipo insomma nell'epoca dei brand dei francesi degli universi cosa c'è di meglio di una saga metacinematografica per parlare di tutto ciò è detto questo io vi saluto e ancora ringrazio il buon paolo per avermi permesso di partecipare a questo video dunque cosa vorrei vedere in scream 7 diciamo che mi piacerebbe un ritorno alla dimensione metanarrativa anche perché ci sarebbe un nuovo filone da parodiare quello dei grandi franchise non intesi come saghe cinematografiche ma ormai al giorno d'oggi hai fatto un film che è andato bene ma perché non tirar fuori una serie tv una serie animata un anime un fumetto vedasi quello che michael b jordan vorrebbe far con creed e allora più killer più killer con obiettivi diversi è uno spunto che non hanno mai sfruttato del tutto quello dello scontro tra più ghost face che magari hanno una divergenza filosofica potrebbe esserci un killer che vuole protrarre il brand in questo caso di stab fino alle estreme conseguenze e chi invece vuole preservare una sorta di integrità della saga cercando di fare in modo che quest'ultimo film che per noi è scream 7 sia veramente l'ultimo sostanzialmente sterminando l'intero cast ai nostri quattro protagonisti principali l'altro invece quello che vuole la prosecuzione lo sfruttamento fino all'osso cerca di salvare i personaggi protagonisti magari liberandosi anche di persone che nella vita reale costituiscono degli ostacoli non molto significativi un insegnante minaccioso un fidanzato molesto questo li fa fuori tutti per salvare i quattro quindi ricapitolando perché magari sono stato un po confuso uno dei due killer vuole ammazzare tutti per dare una conclusione alla saga l'altro invece li preserva eliminando degli ostacoli che i quattro possono incontrare lungo il percorso chi sono i killer qual è la vera identità non saprei ma uno dei due secondo me potrebbe essere tara e ovviamente mi riferisco al ghost face che cerca di preservare la vita e la sanità dei protagonisti perché è da due film che continuano a dirci c'è l'eredità di billy lumi se invece la sorella che sclera e diventa una psicopatica è ovviamente jenna ortega che è anche un'attrice ormai particolarmente amata e quotata e ci sarebbe anche in questo caso un bel gioco metanarrativo che è che cerca di portare avanti la saga magari facendola sbarcare anche su piattaforme streaming con lei che è la star di una serie streaming ovvero mercoledì è un ragionamento contorto può darsi però d'altro canto parliamo di screen 7 dateci dentro fateci godere daie spero di essere stato chiaro aiuto forse no mi ritiro ciao paolo ciao a tutti si pronto ciao filippo ti sono mancato dipende chi sei non ho il tuo numero in rubrica scusa ma non ti riconosco no se ti rispondo il gioco finisce troppo presto ah allora siamo dalle parti di ghost 6 hai scaricato l'app per la voce dai chi sei matioschi victor paolo parlami tu che cosa stavi facendo ancora la rubrica sui cinecomics si sto giusto preparando la seconda metà degli anni 2000 mcu dc extended universe e altre cosette rispondi a questo tra tutti i cinefumetti ce n'è uno a tema slasher beh sì c'è random acts of violence del 2020 ma non so se lo consiglierei e lo hai visto il nuovo scream sì che l'ho visto mi sono divertito come un pazzo c'è anche una scena iniziale fantastica diversa dalle solite il radio silence si sono dimostrati all'altezza e a te invece è piaciuto da morire e non vedo l'ora di vedere il prossimo tu guarda con me la saga di scream vince a mari bass ma diventa sempre più difficile sorprendere un'altra scena d'apertura come quella non lo so se si può fare ma tu che cosa vorresti vedere il punto è proprio questo io non voglio indovinare quello che vedrò voglio essere preso in contropiede sennò che piacere c'è e adesso me lo dici chi cazzo sei ancora un po di pazienza dai giochiamo come vedresti la scena di apertura del prossimo capitolo la scelta della vittima il cerchio di terrori che si stringe intorno a lei ecco lei la vittima del prologo è sempre una donna una scream queen per lo più giovane piacente alla lunga diventa un cliché un po sessista e se stavolta fosse un uomo ma attenzione non un adolescente un super figo il bello del college uno baccio di mezza età rude un camionista fermo di notte in una piazzola di sosta mentre gli altri veicoli sfrecciano sull'autostrada accanto penombra con i grilli che cantano in sottofondo il camionista piscia sul ciglio della strada quando a un tratto gli squilla il telefono e l'attore ci vorrebbe un voto noto che ne so david arbor russell crowe ce ne sarebbe di roba da squartare e poi come andresti avanti visto che iniziamo facendo fuori un redneck potremmo esplorare quel mondo lì come lo chiamano rural horror quelli ambientati in bifolcolandia tra boscaioli sinistre fattorie campi di grano tipo 2000 maniacs vrong tarn scrim non ha ancora esplorato questo aspetto dell'horror vediamo un po se mettara dopo i fatti dell'ultimo capitolo hanno provato ad allontanarsi dalla città e stanno aprendo un agriturismo o una residenza rurale per scrittori nel ritiro creativo tipo tamara drew mi piace l'idea tu ci avresti in un posto del genere gestito da tar e sam nooo portano sfiga ora mi dici chi sei ancora qualche minuto quindi per te il prossimo scream potrebbe essere ambientato in campagna si come dicevo giocando con i cliché del redneck horror tanti sospetti tra la gente di paese non più mid class inoltre vedremo ghostface inciampare in balle di fieno usare la falce camuffarsi da spaventapasseri squartamenti consumati dentro stalla in mezzo alla merda di maiale eccitante mi sembra davvero un'ottima idea il cocktail di sangue merda prosit ora però mi sto stancando dimmi chi sei o chiudo la chiamata aspetta ti senti intelligente vero ma stai sbagliando tutto che cosa sto sbagliando hai detto che la prima vittima è sempre una donna ma non è così nel primo episodio il primo a essere ucciso il ragazzo di triumbe remor e anche nel secondo il primo a cremare il fidanzato della tizia al cinema tecnicamente è vero ma sono poco più che comparse il punto di vista principale è sempre quello femminile che ne diresti allora di vedere un umore grande e grosso strillare con una voce da soprano mentre gli strappano le budella che cosa scommetto che anche tu con un coltello nella mancia strilleresti come la più dotata delle scream queen basta adesso chiudo volevi il prologo con il protagonista maschile ecco ti accontentato e ti aspetto alla luce ciao paolino ciao a tutti ragazzi faccio questo video mentre mi sto allenando diciamo dopo tre chilometri di camminata mi metto un attimo in pausa e faccio questo video per dire ciò per quanto riguarda ciò che potrebbe accadere per un eventuale settimo capitolo di scream la saga di scream però devo dire che questo 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 nuovo rilancio di scream non mi sta per nulla deludendo anzi anche il sesto capitolo devo dire che mi ha convinto tantissimo tralasciando dei piccoli dettagli che non amo più della saga di scream cioè la solita metodologia di come viene poi svelato l'assassino l'assassino che dà la spiegazione del perché fa quello che fa diciamo che dopo sei film questa cosa mi ha un po stufato anche perché la vedo invecchiata un po male come soluzione per quanto mi riguarda però è comunque una caratteristica di scream quindi qualche modo va va bene anche così c'è un aereo che sta passando chiedo scusa che cosa vorrei per un settimo capitolo se dovesse esserci un settimo capitolo che quindi va a continuare dopo la fila del 6 quello che vorrei sicuramente capire che è successo a gale perché il personaggio di gale viene liquidato in un modo nel sesto film che tu capisci che è ancora viva che ha ancora qualcosa da raccontare quindi concludermi la saga così con questa situazione di gale lasciata in sospeso non è un lasciato in sospeso che a me solitamente piace che è a tua libera interpretazione no qui ho lasciato in sospeso un personaggio che proprio per come è stato fatto ti aspetti che deve tornare in qualche modo a raccontare quindi di sicuro cosa mi aspetterei da un settimo capitolo che va a continuare il sesto il fatto è che ci fanno capire gale che fin abbia fatto e soprattutto se la devono far morire che la facciano morire definitivamente se la devono far sparire scusate dalla scena che la facciano morire o comunque me la facciano sparire in un modo un po come successo con sidney che mi fai accettare il perché quel personaggio non c'è più o perché è venuto così liquidato e mi aspetterei anche di vedere l'evoluzione del personaggio di sam sam si chiama giusto la ragazza la figlia di billy loomis che è se per come la vedo io io quasi quasi la farei passare dalla parte del male perché si vede che lei ha un lato comunque omicida abbastanza pronunciato come suo padre c'è quella scena sul finale che lei guarda la maschera lascia la maschera a terra ma è come se lei avesse avuto il richiamo in qualche modo di quella maschera io immaginerei un passaggio dalla parte del male della nostra eroina perché alla fine noi tifiamo questa seme come se fosse diventata la nuova sidney sarebbe molto originale per quanto mi riguarda se questo personaggio positivo si tramutasse in qualcosa di negativo proprio forse come l'ultimo villain quindi che dire da un eventuale settimo capitolo inizierei a tastare questo territorio cioè il se volessero poi andare ancora oltranza all'ottavo capitolo cioè man mano far diventare personaggi sempre più negativo e non che usasse queste sue doti omicida solamente per uccidere gli assassini ma che lei stessa arriva a un punto di follia tale da da diventare da diventare essa stessa diciamo la parte del male e ho trovato un po forzato l'uscita di questo sesto capitolo che per quanto mi sia piaciuto però allo stesso tempo non fa quello che faceva scream tempo fa no quindi aspettare un periodo dove il cinema si si evolveva in determinato modo e poi scream andava a prendere in giro comunque andava a parlare del cinema attuale stesso all'interno del film quindi rendendo il film metà cinematografico questo sesto capitolo tenta di fare questa cosa ma con scarsi risultati risultati per quanto mi riguarda questo è quanto ragazzi scusate se sono un po distratto ma sono anche qui in mezzo alla natura dove potrebbe passare qualsiasi persona e pensare che sono pazzo che sto parlando solo con un telefono e nulla vi abbraccio buona giornata e viva scream come potrebbe essere scream 7 beh degli spunti importanti li abbiamo già avuti con il capitolo 6 due protagoniste nuove le sorelle carpenter che prendono sempre più piede sono sempre più caratteristiche più caratterizzate sono ormai le nuove sidney la vecchia sidney tagliata fuori per problemi contrattuali quindi un personaggio che di cui ormai dobbiamo per o meno per ora fare fare a meno e i vecchi personaggi che narrativamente parlando se ne vanno una alla volta sempre di più quindi le nuove protagoniste sono sempre di più le nostre sorelle sam e tara carpenter due protagoniste però differenti sono due sorelle ma attenzione hanno un padre differente e già questa caratteristica rende interessante quello che potrebbe essere uno sviluppo di un settimo capitolo andiamo con ordine cominciamo a parlare e a pensare a quello che a chi potrebbe essere il nuovo ghostface beh innanzitutto se vogliamo riprendere un po quello che è il filo logico di una della primissima trilogia lasciamo da parte per ora il capitolo quarto che è rimasto lì da solo anche da un punto di vista temporale e ovviamente non avendo più west creven purtroppo dobbiamo basarci su una nuova trilogia completamente diversa anche a livello sia stilistico che narrativo però la nuova trilogia il quinto capitolo già aveva ripreso il capitolo numero uno ne è un requel e lo è dichiarato in tutto e per tutto e con il capitolo sei abbiamo un po rivisto situazioni simili per quanto riguarda poi il cattivo di turno simile al capitolo 2 la vendetta per il figlio ucciso nel capitolo precedente ecco partendo da qui però quanto ci si deve aspettare di rimandi di situazioni che si ripropongono nel capitolo 7 che vanno a riprendere il 3 beh probabilmente una su tutte dovrebbe probabilmente essere quella di un unico ghostface lascerei intaccato il record di tre ghostface del capitolo 6 che in realtà sono 3 più 2 quelli dell'inizio con una scelta narrativa molto interessante ma di fatto abbiamo ben cinque personaggi che indossano la maschera è una situazione dove è stata scelta anche una location diversa una new york che anche se poteva essere sfruttata meglio ha dato degli elementi molto interessanti la scena della metropolitana quella del mini market hanno caratterizzato o stavano per caratterizzare una location che poteva dare molto di più e quindi ci si potrebbe si potrebbe rimanere a new york un unico ghostface sempre a new york in una situazione tenebrosa terrificante con una grande città come new york può dare certo sarebbe una linea narrativa abbastanza prevedibile e la dico ancora ancora di più prevedibile se la scelta del nuovo ghostface fosse quella che tutti stiamo sospettando su cui tutti sospettiamo e cioè Sam Carpenter perché nelle sequenze nelle scene finali del capitolo 6 l'abbiamo vista tenere in mano la maschera anche se lanciare la fiamma per un attimo la guardata l'osservata abbiamo visto il colloquio con il medico con un psicologo parlare abbiamo visto Sam parlare con il medico ed esternare quello che lei ha dentro che non l'ha ancora esternato del tutto perché potrebbe essere ancora latente il medico era era quasi terrorizzato a sentire la ragazza e abbiamo visto le visioni che sembra del padre di questo padre scomodo questo billy lumis che è il primo uno dei due ma il primo killer della saga quindi questo questo ritorno al passato questo continuo potrebbe essere potrebbe avvenire con la scelta forte clamorosa benché telefonata di Sam che potrebbe indossare la maschera di ghostface proprio perché lei è una personalità doppia doppia come come la come la coppia di protagoniste le due sorelle carpenter che fanno una doppia Sydney non abbiamo più la vecchia Sydney ma ne abbiamo due questa volta due sorelle che sono sempre più presenti sempre più protagoniste ma che sono due sorelle con due padri diversi il sangue che scorre nelle vene di Sam è quello del primo storico killer e questo potrebbe essere fondamentale per evolvere un personaggio e farlo diventare il personaggio cattivo nel settimo capitolo addirittura fino ad avere uno scontro fra due sorelle qualcosa di ancora più clamoroso ed epico e nuovo per la serie per la saga tutta chiaro in un'ambientazione quella di New York che potrebbe andare ancora molto perché come ho detto non è stata sfruttata del tutto ma se stiamo giocando e vogliamo giocare fino in fondo allora cerchiamo di andare un po fuori da quelli che possono essere gli schemi prevedibili e allora se è vero che gli indizi portano a Sam scegliamo una location che possa rovesciare completamente una situazione ripeto stiamo giocando quindi andiamo anche per situazioni assurde e allora se New York non può più essere rappresentare una sorpresa perché già scelta come location non torniamo più a perché ormai la piccola cittadina storica ha già detto tutto a livello di personaggi di vissuto di storie è improponibile tornare al prologo di quello che era successo all'inizio di Scream e quindi tornare a quello che e wosborough aveva dato e raccontare la storia nuovamente della madre di Sydney forse siamo troppo in là con il tempo la saga del settimo capitolo ma non impressiona il numero impressionano i numeri di anni che stanno passando al primissimo dal 1996 e quindi spiazziamo tutti e andiamo in una nuova location e allora facciamo che Sam si sposa con il fidanzato che invita tutti i amici e parenti in un resort e in questo resort ci sarà Sam dietro la maschera di Ghostface beh vogliamo dirla tutta probabilmente non si arriverà a tirar fuori il personaggio della madre delle due sorelle Carpenter perché la madre è la stessa hanno la stessa madre e è un personaggio che può essere diciamo riscoperto o meglio sviluppato in quanto di lei poco sappiamo però diciamo che per essere veramente forti nella scelta di un unico Ghostface forse la scelta telefonata quella intuibile quella che ci hanno fatto capire di Sam potrebbe essere probabilmente quella più carismatica perché è vero che è abbastanza telefonata ma potrebbe essere veramente un qualcosa di epocale e se vogliamo parlare di qualcosa di epocale e vogliamo essere ancora più spinti oltre ad aver scelto una location di un resort di un qualcosa di stereotipato di luoghi comuni che si ripropongono in genere horror con cui con i quali con questi giochi comuni gioca la saga di Scream e quindi sarebbe in grado di tirar fuori un qualcosa di interessante benché bizzarro lo ammetto ma appunto è di un gioco si tratta e a questo punto vogliamo giocare fino in fondo se dovrebbe se difficile sarà lo sconto fra due sorelle perché Tara dovrà affrontare Sam in quanto nuova Ghostface e quindi la difficoltà di affrontare una sorella perché non essere aiutata dal grandissimo clamoroso ritorno di Sidney che speriamo risolva a questo punto i problemi con la produzione anche se è un personaggio di cui non ho sentito sostanzialmente la mancanza nel capitolo 6 ma se vogliamo fare questo gioco ai grandi ritorni e a uno scontro epico finale la vecchia Sidney ritorna a sconfiggere una delle due che corrispondono ai nuovi Sidney ma che è la parte cattiva è la parte ancora legata a Billy e quindi di nuovo uno storico scontro epico una lotta finale tra Billy e Sidney che si che ritorna sostanzialmente entrambi una cacciata da una fuori dalla produzione l'altra l'altro fuori livello narrativo e in mezzo le due protagoniste assolute la nuova Sidney che è Tara e l'altra nuova Sidney che però in realtà è il nuovo Billy Loomis chiaro ne ho fatto un po di tutti i colori con questa fantasiosa e fantasioso ipotesi di uno sviluppo per un nuovo capitolo però appunto sono partito da un punto di vista abbastanza terra terra fino a fantasticare il più possibile e perché no vediamo che cosa hanno in mente e aspettiamo Scream 7 allora secondo me in Scream 7 potrebbero riprendere Scream 3 e tornare sulla questione degli stab visto che in Scream 5 si era parlato di stab e del fatto che la saga fosse un po andata a morire criticando il fatto che ad esempio l'ultimo stab si chiamava solo stab esattamente come Scream 5 si chiamava solo Scream senza il numero davanti quindi magari trasportando il tutto sul set di un nuovo stab che si rifà alla storia di Scream 5 potrebbe anche essere interessante nel senso che la parte metacinatografica è stata messa un pochino in secondo piano in Scream 6 quindi a mio parere potrebbero tranquillamente riprendere il concetto del film nel film e cercare di andare in quella direzione magari puntando sullo squilibrio mentale di Sam potrebbero tranquillamente per una volta fare uno Scream in cui l'assassino è la protagonista che è dissociata e non si rende conto di quello che sta effettivamente facendo che può sembrare una cosa un po' tirata per i capelli per l'amor del cielo però secondo me sarebbe anche una cosa nuova perché per tutta la saga abbiamo sempre avuto protagoniste che riuscivano sempre a sfangarla se per una volta la protagonista fosse una che nei film precedenti ha lottato per cercare di abbandonare le sue origini che la tormentano e ne venisse all'improvviso sopraffatta è vero che in Scream 6 Sam sembra effettivamente aver abbandonato completamente la questione di suo padre però proprio per quello potrebbe essere un discreto colpo di scena il vedere lei che è come se fosse la doppia personalità a un certo punto quella parte che lei voleva abbandonare prende il sopravvento e si distacca totalmente dalla realtà potrebbe anche venire fuori una cosa carina secondo me però bisogna vedere perché comunque magari trasportare il tutto sul set del film lo so che se potrebbe essere troppo effettivamente simile a Scream 3 perché ok che lo dovrebbe ricordare ma insomma allora a questo punto magari più che trasportarlo sul set di un film magari di una serie visto che le serie non sono mai state tanto considerate all'interno una saga di Scream e si parlava solo di film magari per una volta la questione metacinetografica potrebbe diventare metaseriale perché no? a me non dispiacerebbe una cosa del genere devo essere sincero Ciao Paolo! Salve a tutti grandi appassionati di cinema e nonne io sono The Henry Cinema 98 e ringrazio enormemente il buon Paolo Innocenti per avermi permesso di parlare della mia saga horror preferita di sempre io sono molto hypato per il prossimo film di Scream e per un buon motivo perché il successivo capitolo Scream 7 dovrebbe praticamente essere la conclusione di una trilogia è vero che tecnicamente Wes Craven programmava di fare 4, 5 e 6 quindi cioè sarebbe... si otterrebbe una cosa dispari ecco praticamente però in generale considerando che il grande rilancio di Scream è partito dal quinto capitolo deduco, deduco che la terza trilogia dovrebbe essere la prossima con il ritorno finale dei protagonisti dei primi film quindi mi aspetto sicuramente il ritorno di Sidney perché non penso che la Paramount sarebbe così cattiva da negare l'aumento dello stipendio all'attrice per l'ennesima volta perché che cavolo mi è mancata parecchio nell'ultimo film con tutto che stanno sicuramente cercando di costruire una mitologia attraverso i nuovi attori però vorrei che almeno ci sia una conclusione perché Scream 5 l'hanno dedicato principalmente a Linus il secondo a Gale e il terzo ci starebbe come ultima conclusione per Sidney e chi potrebbe essere l'assassino? lo dico, voglio Stu lo so che per molti sarebbe una roba fanservice telefonatissima però qual è il motivo per cui voglio Stu? praticamente ci sono molte frecciatine a Star Wars soprattutto nel quinto capitolo per prendere in giro o semplicemente per divertirsi con la dicotomia dei sequel e considerando che adesso non c'è più tutta quella nomea di storia degli horror che si può raccontare perché ormai tra un capitolo e l'altro passa sempre un anno e non c'è tempo per gli horror affinché si evolvano e Scream possa raccontare qualcos'altro quindi almeno per questa conclusione per evitare che la saga cominci a diventare sempre di più un semplice slasher e basta vorrei il ritorno di Stu perché al di là del realismo, ma tanto ragazzi lo sappiamo Scream non è mai stato particolarmente realistico perché, cioè, succede il mondo nell'ultimo film uno degli attori, cioè uno dei personaggi si becca 3 miliardi di coltellate ed è ancora vivo e su se il film infatti fosse la conclusione dell'arco narrativo di Sidney e Gale per dare nuovo spazio alle nuove leve beh, a questo punto visto che loro finiscono la loro storia concludi con il villain che ha iniziato tutto tra l'altro sarebbe interessante perché ci sarebbe la contrapposizione tra Stu che cerca di tentare Sam un'ultima volta con questa sua natura da killer che spero che si esorcizi completamente in questo nuovo capitolo perché, a differenza di molti, a me non piacerebbe Sam come antagonista del prossimo capitolo della saga perché Scream ha sempre dato quel senso di speranza che si può andare avanti anche quando le cose vanno sempre peggio con una Sidney che riesce sempre ad andare avanti per carità, lo so che i protagonisti sono diversi però, in generale, mi piacerebbe che questa punta di ottimismo nonostante il male che continua sempre a percorrere continui ad essere mantenuta quindi il ritorno di Stu non sarebbe semplicemente un'idea satirica del ritorno di Palpatine che apprezzerei e non sarebbe solamente una grande contrapposizione tra lui e tra Sidney che vede l'ultimo villain per l'ultima volta riallacciandosi totalmente al passato ma sarebbe anche un modo per sbloccare definitivamente Sam creando uno scontro psicologico tra i due potrebbero anche fare una cosa meravigliosa che sarebbe in totale contrasto con tutto quello che abbiamo visto della saga potremmo vedere l'inizio con un assassino che ammazza uno delle prossime vittime si toglie la maschera come l'inizio di Scream 6 con la differenza che l'assassino rivelato è proprio uno dei protagonisti del film che tormenterà tutti gli altri fino a quando non sarà rivelato con la differenza che stavolta lo spettatore conoscerà l'identità dell'antagonista fin dall'inizio creando la doppia ansia sarebbe un modo originale mi dispiacerebbe non vedere la conclusione finale con Stu che renderebbe il cerchio completamente chiuso però però non negherei nemmeno questa scelta queste sarebbero le idee principali che vorrei per Scream 6 quindi grazie ancora al buon Paolone per avermi dato questa possibilità e un salutone a tutti gli altri ciao ragazzi salve allora cosa mi aspetto da Scream 7 da un eventuale Scream 7 beh posto che io il sesto capitolo l'ho apprezzato e anche se un po' diversa da quella del passato la direzione che sta prendendo che sta prendendo la serie mi piace da un settimo capitolo mi aspetterei principalmente di vedere Sam Samantha Carpenter spinta ancora di più verso il suo limite cioè lei che deve avere ancora più a che fare con il suo retaggio Loomis con la follia del padre che pian piano prende sempre di più il sopravvento quindi mi piacerebbe vedere Sam spinta verso quel limite ancora di più verso l'orlo del precipizio se vogliamo perché credo possa essere un risvolto narrativo molto molto interessante perché già nel quinto film un po' succedeva lei combatte questa cosa ma alla fine per proteggere le persone che ama come la sorella deve abbracciarlo già nel 6 lo fa molto di più quindi mi aspetto un ulteriore elevamento dell'asticella da questo punto di vista che cosa vuol dire che magari può diventare lei stessa al ville non credo non credo magari sarà sempre un personaggio positivo ma con quest'ombra che diventa sempre più grande e invece poi per quanto riguarda un mio piccolo desiderio personale ma mi rendo conto che è follia ma impazzirei se fosse così visto che gli autori stessi continuano a buttarla lì a mo' di battuta se Stu fosse ancora vivo io impazzirei e fosse di nuovo lui Ghostface in un eventuale Scream 7 perché pensateci sarebbe il terzo capitolo di una trilogia già nel 3 in Scream 3 si scopriva che dietro agli attacchi dei due film precedenti c'era qualcun altro del passato che poi prendeva lui in mano le redini della situazione e se effettivamente fosse Stu redivivo che magari vuole vendicarsi della figlia del suo ex socio che che l'ha fregato alla fine del primo film magari vuole farla diventare come il padre per avere una compagna di giochi di omicidi mettiamola così a me piace piacerebbe piacerebbe un casino mi rendo conto che è follia però non si sa mai no? Mamma mia ragazzi quante belle idee quante teorie non vorrei essere nei vostri panni per scegliere qua sotto nella sezione commenti quale di queste tante teorie vi appartenga di più sia più vicina a voi e intanto vi chiedo voi cosa vorreste da Scream 7 perché va bene dire io sono d'accordo con ma voi cosa vorreste fate sì che la sezione commenti diventi come al solito un luogo dove scambiare pareri opinioni che io vi leggerò molto volentieri ma non posso concludere questo video senza aver ringraziato tutti quelli che hanno partecipato voi che lo avete visto che commenterete ma anche tutti i miei amici perché prima di essere youtuber sono amici che han deciso di accettare il mio invito a questo video in collaborazione attendendo che veramente Scream 7 possa avere il via libera un caro saluto ci vediamo presto non perdetevi tutti gli altri video a tema Scream presenti sul canale e vi ricordo sempre di abbonarvi perché se vi abbonaste ricevereste in cambio dei contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana il link è qua sotto un caro saluto e mi raccomando ricordatevi delle regole e mi raccomando